Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O Madre mia Santissima, o Vergine Maria, vengo oggi a te, con cuore mite e umile, a supplicare il tuo aiuto. Ti prego, ti chiedo, ti supplico, aiutami, ascolta il dolore del mio cuore, la preoccupazione per ciò che mi sta accadendo e che mi sembra senza soluzione umana. Madre mia, donami la serenità e la certezza che dal cielo tu mi aiuterai ad allontanare il male, risolvere questa difficoltà e a tornare ad essere felice e nella pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Oh Vergine del Santo Rosario, oh Regina mia, tu che sei la figlia del Padre Celeste, la madre del Figlio Divino, la sposa dello Spirito Santo, tu che tutto puoi, presso la Santissima Rienità, devi imperrarmi questa grazia, tanto a me necessaria, purché non sia di ostacolo alla mia salvezza eterna. Chiedere la grazia che tanto desideriamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Te la domando per la tua immacolata concezione, per la tua divina maternità, per i tuoi gaudi, per i tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te la domando per il cuore del tuo amoroso Gesù, per quei nove mesi che lo portassi nel seno, per gli stenti della sua vita, per la cerba sua passione, per la sua morte in croce, per il nome suo Santissimo, per il suo preziosissimo sangue. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Te la domando infine per il tuo cuore dolcissimo, nel tuo nome glorioso, Maria, che sei la stella del mare, Signora potente, Madre di dolore, porta del paradiso e Madre di ogni grazia. In te confido, da te tutto spero, tu mi devi salvare ed aiutare. Amen. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostrami, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Regina del Santo Rosario, prega per me, affinché io sia degno delle promesse di Cristo. Regina del Santo Rosario, metti in me l'amore alla recita del Santo Rosario, che tutto può e tutto risolve. Regina del Santo Rosario, donami la grazia che tanto spero e che il Rosario risuoni tra le mura della mia casa e nel mio cuore ogni giorno. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e resurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Maria, concedimi la grazia che tanto ti chiedo.